Bentornati ragazzi nell'unica serie che tanto amate di questo canale, non sto scherzando, per quanto riguarda i leak e i futuri aggiornamenti di Fortnite Benvenuti, vi chiedo di lasciare un bel commento, stiamo azzeccando piano piano tutti quanti i leak che vi ho proposto negli scorsi video Che vi lascio qua in alto, sopra nelle schede, come tanti altri video di Fortnite, quindi non perdetevi sul mio canale Però ci stiamo azzeccando, tutte quante le cose che fino ad ora vi ho previsto, tra il cambiamento di skin del bus Tutti quanti gli aggiornamenti, le sfide della terza settimana e tante altre cose le abbiamo azzeccate Quindi vi consiglio di continuare a seguire questa serie di video, condividere con i vostri amici così piano piano aggiornate tutti quanti i vostri amici in tempo reale sui vari aggiornamenti che arriveranno più avanti Oggi come da titoli vi parlerò di tante tante cose, come per quanto riguarda l'aggiornamento della zona di pinnacoli pendenti Perché avrà un piccolo cambiamento che ora ve ne parlerò Tra un pochino verrà giunto un nuovo fucile di precisione ragazzi, un Bolt veramente molto molto forte Questo qua è il rumore che fa il Bolt sia per sparo che per ricarica Per quanto si sa ragazzi è un fucile di precisione molto molto forte Sarà di livello solo leggendario come è stato trovato nel codice qua, vi lascio il leak che appunto parla del fatto che sarà solo di tipo leggendario Quindi questo vi fa capire che sarà un fucile molto ma molto forte Molto lento però a caricare perché sono stati anche trovati i tempi di ricarica e tutto quanto Tecnicamente dovrebbe avere un tempo di ricarica che riguarda più o meno 4 secondi Davvero molto per un'arma, 4 secondi Però tecnicamente potrebbe essere un'arma che scioglie veramente l'avversario da lontano E vorrei provarla, sono veramente molto curioso Questo qui ha anche il 3D dell'arma, è molto molto bella Ricorda molto, ho letto anche molte pagine di leak Per aspetto un Bolt che si trovava in Call of Duty Modern Warfare 2 Che è il mio Call of Duty preferito Per chi sa di cosa parlo, il Barret è molto simile al Barret Tecnicamente è questa la grande novità di questo fucile Che molto probabilmente potrà shottare gli avversari attraverso i muri Questa cosa fa davvero paura Perché tutte quante le mura gigantesche che creiamo, i fortini che creiamo Potrebbero essere disintegrate da questo Bolt Wow, ho molta paura ragazzi Farò di un bug che è stato riscontrato, di un paio di bug anche Che sono stati riscontrati in Playground 2.0 Ho anche letto a parco giochi 2.0 Il primo riguarda il momento di respawn Quando avvicinate un compagno Tecnicamente si può sponchillare O la cosa è stata appena fixata dai sviluppatori del gioco di Fortnite Cioè dall'Epic Games Oppure ancora ora si può fare Quindi mi raccomando provateci se volete Ma tecnicamente si può sponchillare una persona Nel momento in cui tu la uccidi E fa l'animazione dell'aeroplanino Che non so come chiamare, del robottino Che fa il fascio di luce Se tu spari in quel momento Con un RPG Nella zona dove c'è tutto quanto il loot Tecnicamente puoi sponchillare L'avversario che è in cielo È una cosa che verrà assolutamente fixata Tra un pochino Però è una cosa molto molto carina Però è una cosa molto scomoda Che ho riscontrato E anche questa l'ho azzeccata nello scorso video dei leaks Per quanto riguarda parco giochi Il tema squadre Perché nello scorso video appunto Avevo parlato che sarebbe stata giunta La roba per quanto riguarda Che si poteva giocare a squadre In parco giochi L'ho azzeccata Però c'è un piccolo bug Perché tanti voi hanno notato Che comunque Anche se si mette in team Molte volte Si vede dove si trova la squadra avversaria È una cosa scomoda Però credo se venga fixata L'unica eccezione però Di cui vi ho parlato l'altra volta E che ho sbagliato Ma mi sembra strana come cosa Parco giochi 2.0 Verrà tolta Tra un po' di tempo È una cosa che Onestamente delude me Delude voi Ma delude tutta quanta Al community di Fortnite Perché parco giochi Da tutti quanti noi Vengono utilizzati Sia per allenarci Che per divertirci Contro i nostri amici Ed è una cosa Secondo me Molto molto bella Insieme ad espositive Ad alto potenziale È una delle modalità Più divertenti Che sono state aggiunte Secondo me Da Fortnite Parlavamo di espositive Ad alto potenziale Perché ragazzi Tra un po' Verranno aggiunte Ma la cosa Che è molto bella Raga voi dite Madò che bomba È il fatto che Con espositive Ad alto potenziale Forse Molto probabilmente Ve lo butto lì Al 99% In quel periodo Tornaranno i jetpack Ma la cosa Bella È che Quando noi utilizzeremo Il jetpack In espositive Ad alto potenziale Da quanto Si vede Da alcune strisce Di programma E da molti leak Su Twitter Raga Si potranno utilizzare Le armi esplosive Mentre si vola Col jetpack Ed è una cosa Che Fortnite Stai cercando di implementare Vi metto qui Degli screen Dei leak Così magari Leggete anche voi Cercate di capire anche voi Qualcosa in più Che magari Io non ho capito Molto bene Però Molto probabilmente Sarà aggiunta Questa possibilità Qui E io Già Vedo la gente Che sclera Vedrò già Me a sclerare Nei video Quando giocherò Da solo Davvero Sarà una cosa Esplosiva A tutti gli effetti Oltre a questa Giunta del jetpack Tornerà per un periodo limitato Anche il missile teleguidato È stato trovato Anche questo All'interno del codice Vi metto qua il leak E credo che verrà Giunta appunto Per il ritorno Di aspetto di alto potenziale Ma spero che poi Venga rieliminato Perché secondo me Era un oggetto Un item Molto molto forte Troppo OP Per i miei gusti Però comunque Molte persone Si divertivano E ci sta che lo rimettono Per un periodo troppo Però limitato Lo voglio E siamo arrivati ragazzi Al momento clou Perché tanti di voi Magari hanno aperto questo video Per quanto riguarda L'aggiornamento Di pinnacoli pendenti Cosa riguarda Questo aggiornamento Che molto probabilmente Come si E vince Come si vede Da questo leak Che adesso Mi mostro Ragazzi Molto probabilmente Verrà aggiunto Un nuovo palazzo Nella zona di pinnacoli pendenti Sarà il palazzo Della polizia Non so se sarà un mini palazzo Oppure un grattacielo Credo che sia Una via di mezzo Da tutti quanti i palazzi Che troviamo All'interno di pinnacoli pendenti Non so però dove Possa essere posizionato Credo che venga posizionato Al centro di pinnacoli Perché se voi Avete presente La mappa di pinnacoli Al centro C'è una specie di Palazzo Mezzo costruito Mezzo abbandonato Dove all'interno C'è una cessa Sopra A una specie di rampa Credo che venga messo lì Perché quel palazzo lì È in costruzione Tecnicamente E secondo me Quello diventerà Il nuovo edificio Per quanto riguarda La polizia Quindi per quanto riguarda La polizia ragazzi Secondo me E onestamente Verranno aggiunte skin Dei poliziotti Quindi ragazzi Spero che questo video qua Dei leak Vi sia piaciuto Da questo video qua è tutto Fatemi sapere cosa ne pensate Condividete questo video qua Con i vostri amici Commentate qua sotto Con tutte quante le cose Di cui volete discutere Mi raccomando Discussioni civili Perché ci tengo molto A discussioni civile Fatemi sapere cosa ne pensate In questo video Di questa serie E cercare più informazioni Per quanto riguarda i leak E esporverli Quindi spero di essere migliorata Per quanto riguarda questo argomento Un bel like È sempre il supporto Da Marche è tutto ragazzi Bella Bella Ciao Ciao Ciao